Hop 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 siamo arrivati fin qua. Abbiamo tutto questo e ora la prova facciamo. Veramente sono le prime delle forze ma ok. L'ho notato. Le parole su questi tanti castelli si leggono a me. Oltre a questo punto inizia l'area della prova. Solo chi intende affrontarla può passare oltre. Coloro che non hanno il coraggio di sfidare il Pokémon dominante che protegge questo territorio non sono degni di avanzare. La fiducia nei propri Pokémon è la chiave per il trionfo. Sì, rischiamo di morire grazie a un Pokémon ma ok. Questo mi sembra più di minaccio che di una prova. Irrò della phai boi. I no credo sia di topogrado drago io sono morto di tipo drago e ti abbatto ok ah si qui l'ho trozzino grazie allo scanner isola il terzo scanner isola che faccio il mio fratello ha fatto il testo scanner isola lui è uno starter d'elba ha trovato serpaleon uno dei starter di bianco e nero l'ultimo stato evolutivo cacà vabbè sentiamo starato che non voglia si anche qui l'ultraggio è super efficace cosa succede se esco? questo torna André mi che brutto e non solo colpo con l'ultraggio si almeno sappiamo l'ultima prova